Di una delle operose province della Toscana, di una bella città come Pistoia, per il 2017 capitale della cultura, vogliamo sapere delle sue attività produttive indispensabili ai quasi 300.000 abitanti, una grande comunità che ha sempre vissuto di commercio, costruzioni, manifatturiero, agricoltura, turismo, della piccola e media impresa, almeno prima del 2008. Vorremmo sapere se i mobili, i vivai e le calzature siano ancora oggi da forza del territorio. Beh, è indubbio che resistono ancora alcune eccellenze in questi settori, ma non abbiamo più, ahimè, sia nel mobile che nel calzaturiero, i numeri e anche le dimensioni del passato. Come ho detto, resistono esperienze d'eccellenza nel rapporto con le grandi griff, per quanto riguarda le calzature, così come nell'artigianato di qualità, ma i numeri ormai non sono più quelli ai noi del passato. Anche il vivaismo, che appariva, insomma, come il settore meno in sofferenza con la crisi, i dati, i bei dati anche dell'export, è un settore che invece sconta molte difficoltà. Che ha bisogno, avrebbe bisogno di un grande processo di innovazione, di prodotto, ma soprattutto di processo, abbandonando un po' quella struttura feudale che lo sta caratterizzando, che l'ha caratterizzato fino adesso, e provando invece a realizzare anche qui un rafforzamento delle reti, che indubbiamente porterebbe anche ad un rafforzamento della qualità del lavoro, che è un po' le indicazioni che sono contenute anche nella Carta dei Valori, per il vivaismo recentemente approvata in seno al distretto, e su cui insomma molto abbiamo insistito e lavorato. Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, sono dolori anche in questo territorio, sempre un punto importante? Sono dolori purtroppo più forti che nel resto della Toscana, registriamo un tasso totale di disoccupazione del 16%, che è ben più alto di quello regionale, anche ovviamente di quello nazionale, con un 30,7% se non sbaglio di disoccupazione tra i 18 e i 29 anni, con un oltre 44% delle donne. Quindi insomma tutto ciò ci indica una sofferenza ocuita anche dalla fine di molte esperienze di ammortizzatori sociali, molte realtà che ci impone una grande responsabilità per l'oggi e per il domani. L'ex Ansaldo Breda, ormai ex perché oggi è della giapponese Itachi, sta producendo lavoro, ricchezza per il territorio? Beh certo, è indubbio, è l'unica grande azienda che abbiamo per il territorio. Poi la vera scommessa sarà quella di rafforzare il sistema territoriale, di farlo crescere, per favorire l'insediamento di Itachi sul nostro territorio e in particolare anche la sua leadership nel distretto. Ecco, noi pensiamo che questo processo debba partire dalla creazione, oltre che per creare appunto lavoro, dal rafforzamento e dalla creazione delle competenze, partendo da una necessità che è quella di implementare il rapporto con il sistema formativo territoriale, sia dell'istruzione superiore che dell'università, perché riteniamo che sia questa la vera sfida per mantenere Itachi e rafforzare la presenza di Itachi sul nostro territorio. Passiamo al turismo. Per quanto riguarda questa importante voce di un'economia, l'essere per questo 2017 capitale della cultura, incrementa i numeri dell'occupazione, i numeri degli introiti? Beh, sicuramente Pistoia capitale italiana della cultura per questo anno è una straordinaria occasione per fare squadra. Ecco, io vorrei definirla così, avendo negli occhi una città sicuramente più ricca di iniziative culturali, di proposte culturali, ma anche più viva. Io credo che la presenza di oltre, e la permanenza nella nostra città, di oltre il 30% in più rispetto agli anni precedenti, di turisti sia un dato, una cosa visibile anche al cittadino più disattento. Certo è indubbio che consolidare questa esperienza, rafforzarla, in particolare mantenere vivo e rafforzare il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e gli operatori socio-economici, sia il lavoro più duro che ci attende nei prossimi anni per parlare di una programmazione, per mettere in piedi una programmazione che vada oltre il 2017, che provi a consolidare questi effetti e quindi a consolidarli in termini occupazionali e anche di valore aggiunto per il territorio. Le elezioni amministrative chiameranno l'11 di giugno alle urne anche il territorio di Pistoia. Qual è la coalizione più forte di questo territorio, forse il centro-sinistra? Un appuntamento importante indubbiamente per il nostro territorio, dove vanno al voto diversi comuni e l'appuntamento forse più atteso, forse altro per i numeri, è quello del comune capoluogo. Il sindaco uscente, il sindaco di Pistoia uscente, ha raccolto su di sé il consenso della quasi totalità del centro-sinistra, quindi una coalizione abbastanza forte. Di contro però si è assistita ad un proliferare di liste civiche, che credo diano un po' il segno anche della difficoltà della rappresentanza tradizionale dei partiti a, in qualche modo, rappresentare gli interessi diffusi. Ecco, io penso che comunque vada. Il compito poi, una volta terminata questa partita amministrativa, sarà indubbiamente quella di ritessere un filo di unità, nel senso che sarà compito di tutta la rappresentanza, penso, istituzionale, politica e sociale, ricomporre, provare a ricomporre queste fratture e soprattutto poi dare risposte ai tanti bisogni, alle domande dei cittadini.